abbiamo tutto paura se tu a un certo punto arrivi che hai 14 punti e ne fai 41 è anche vero che ti hai fatto un bel lavoro io quello che posso dare a questa società posso dare comunque un apporto qualitativo migliore di quello che è stato dato in precedenza l'importante è che mi si dica che è capitano perché come ogni anno io mi scontro con qualche capitano vuoi dire qualcosa? spalletti allegri e tutto, dei fori che non so, perciò in un attimo mi devi spiegare qualcosa perché io mi ricordo quando mi hai chiamato, no, 4 a 0, Frosinone, mi chiami e dici vieni, vieni io vengo, ho capito, mi chiamassi prima, mi devo chiamare, vabbè ci ho spostato, vabbè però rispetto di squadra, di quello che ho fatto, di come sono andate le cose, è chiaro che a un certo punto è ovvio che io ti devo rispondere perciò ho preso questa squadra in mano, sono andato a Milano, ho vinto la partita, i giocatori sono arrivati lì con atteggiamenti fosse giusto perché perciò abbiamo vinto la prima partita, poi ho detto che il classico, poi c'è un voto, è arrivato lì i giornalisti che mi chiedono che cazzo, fai che cazzo, io dico che cazzo vuoi, fammi la guarda grazie 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 grazie